Ecco, qui siamo in un bosco tra Piscio, Luciano e Nida, nel mezzo di una nevicata, si può vedere il legname accatastato sotto la neve che cade. Mi gelano le maniche, ho dimenticato i guanti in macchina, però merita in effetti. I boschi di questa zona hanno un'anima molto affine a quella dei boschi tolkieniani, per questo forse non ci trovo tanto bene. Giù in fondo c'è la nostra macchina, ora mi riavvio.